I gol più belli del girone di ritorno della serie a parte 2 3 giocatori contro 4 del Milano ma arrivano anche i rinforzi centralmente Allora l'apertura cerca Rediuric, esce Mignana, anticipato, rovesciata e gol! Romagnoli lancia a lungo, cerca Giroud, la sponda di testa per Ante Rebic, controlla con il petto, calcia Rebic! E' partito di nuovo Traore, eccolo il lancio di cui parlavamo anche in precedenza Traore contro Dirozola, Traore pronto a ritrare sul destro, lo sa Martínez Quarta che si mette lì Fa sparire il pallone Traore, lo fa sparire alle spalle di Drongos! Pavoletti sponda col petto, De Iola controlla e conclusione! Ha perso palla Patrick nel tentativo di farlo uscire, in segne! Luis Alberto, la palla gira, la mette fuori Racmani, poi la vuole di Pedro! No, la tiene Ospina! Miranciuk, avanza ancora Miranciuk, slalom gigante di Miranciuk che arriva in zona tiro, Miranciuk! Milinkovic, Savic, di prepotenza fisica, c'è una prateria per Felipe Anderson che aspetta il rimorchio, poi va sul destro, Felipe Anderson dripla tutti! Maxime Lopez, apre tutto su Traore, Arpion nel pallone, può puntare da solo, Traore entra in aria, sguscia! Traore! Di corsa di Giroux sul muro, palla fuori, prova la conclusione col mancino piazzato! Deulofeu corto sul primo palo, può raccogliere Molina e piazzare! Si muove nello spazio Bastoni, bella palla di Kovalenko, Bastoni si coordina per il cross, lungo, nella zona in cui arriva Verde, Verde controllo, sterzata, sinistro! La sposta allo spagnolo, ancora Braem Dias, esterno, Messias, anche lui mancino, Braem Dias al cross, Giroux, parla la porta, scarico per Benna Serra! Sul punto di battuta va Pellegrini! Pellegrini!